Sì, un risultato direi storico perché il primo intervento pubblico dopo 50 anni di edilizia residenziale pubblica ha quasi un milione e 900 mila euro per riqualificare 55 appartamenti popolari in questa zona della città che è una delle prime zone che è stata urbanizzata all'inizio del Novecento. Adegueremo dal punto di vista sismico ed energetico questi 55 appartamenti, ne realizzeremo altri 20, costruiremo aree comuni per i residenti della zona, per la scuola, per studiare, per stare insieme. Quindi un intervento di edilizia residenziale innovativo e di qualità. Quali sono i costi dell'opera, Assessore? I costi complessivi saranno 1 milione e 874 mila euro. Nelle prossime settimane avvieremo la fase per l'aggiudicazione della progettazione e successivamente per iniziare i lavori. Le vie interessate sono proprio qui dietro, quindi via delle Robine, via dei Platani, via delle Acace, dove ci sono appartamenti che non riusciamo a consegnare a chi ne ha diritto perché sono inagibili. E quindi questa è la prima motivazione che ci ha spinto a richiedere e poi ottenere questo finanziamento. Noi siamo nelle condizioni della nostra città, dopo anni di abbandono dell'edilizia residenziale pubblica, a non poter consegnare case perché inagibili. Con questo intervento avremo 70 alloggi in più da consegnare ai nostri concittadini.